L'evoluto come reagisce alla morte di un figlio? Soffre come un'altra persona? L'evoluto però che è tale perché ha compreso quanto la morte del figlio sia stata necessaria per aiutare nell'evoluzione il figlio stesso che sente interiormente che l'amore che aveva verso il figlio non si è interrotto ma resta un filo che non sarà mai strappato e sarà ritrovato quando anche egli abbandonerà il piano fisico? Questo evoluto avrà infinite ragioni per lenire la sua sofferenza